Si è scatenata una vera e propria bufera mediatica a causa delle dichiarazioni rilasciate da Giovanotti qualche giorno fa. Invitato all'Università di Firenze per parlare agli studenti al follow delle scienze sociali, ha raccontato di aver partecipato in America a molti festival importanti dove i ragazzi lavoravano gratis per fare esperienza. Mi sono ricordato che quando ero ragazzo anche io lavoravo gratis alle sagre e mi divertivo come un pazzo. Imparavo ad essere gentile con le persone e se mi avessero detto non lo fare va in colonia sarebbe stato peggio. Queste parole hanno però scatenato un vero e proprio putiferio. Anche tra i fan più affezionati ce ne sono stati molti che hanno aspramente commentato le parole del cantante. Il risalto dato a questa diatriba social è stato talmente grande che lo stesso Giovanotti, ospite di Radio DJ, ha sentito il bisogno di chiarire il suo pensiero. Non ho detto e non penso sia giusto lavorare gratis, ho solo raccontato la mia esperienza e di quanto sia stato divertente per me potermi confrontare da ragazzino con il mondo del lavoro.